E' terminato l'incontro del campionato Juniors L'Eco contro l'Amosportiva Saronno, vinta dai padroni di casa per 4-3. E' qua con noi il giocatore dell'Eco mentre vediamo il suo gol tra l'altro oggi, il suo esordio, a lui chiediamo un commento sulla partita. No niente, io non sono bravo per le parole, però mi sono trovato subito bene quando sono arrivato per ragazzi, mi ha fatto piacere segnare subito un gol per l'arrivato qui, speriamo che la stagione vada bene, se ormai siamo al termine e niente. Grazie Michael, ci vediamo alle prossime partite dell'Eco Calcio 5. Ciao a tutti. Ed ora siamo con il giocatore dell'Amosportiva, mentre vediamo i suoi due gol chiediamo anche lui un commento su questa gara. Sì, è una partita buona ma che ci lascia un po' con l'amore in bocca, buoni due gol ma potevamo fare molto meglio, soprattutto sotto porta. È stata molto difficile soprattutto per le molte mancanze che c'erano questo sabato, però il calcio è fatto anche di queste cose e andiamo avanti sperando in meglio. Grazie Gianluca, ci vediamo alle prossime partite. Grazie a te, ciao a tutti. Grazie a te, ciao.